Circa 65 milioni di euro di fondi destinati alla ricostruzione dell'Aquila per il terremoto del 2009 sono a rischio. La denuncia arriva dal sindaco Pierluigi Biondi, il quale rileva la disposizione di un prelievo dai fondi del terremoto a favore di altre opere, che è contenuta nel decreto Sblocca Cantieri. Nello stesso decreto sono stati confermati 10 milioni di euro per il ristoro del bilancio comunale per cui Biondi aveva dato e poi ritirato le dimissioni da sindaco. Quindi ad oggi il governo con una mano dà all'Aquila ma con l'altra prende dal capoluogo. In pratica vengono presi 65 milioni di euro e destinati ad altre esigenze che riguardano sempre territori colpiti da calamità e quindi non ci possiamo esimere dal dare la nostra disponibilità rispetto a un'offerta di solidarietà. Però credo che il governo dovesse trovare 65 milioni di euro da un'altra parte perché non è che togliendo ad alcuni territori colpiti da calamità e spostandoli su altri si risolve il problema. Servono risorse fresche e quello che dico io già da tempo è che bisogna iniziare a programmare anche il post 2020, cioè quando finirà lo stanziamento in favore dell'Aquila e se le premesse sono queste insomma sono molto preoccupato. Quali saranno le prossime azioni politiche per cercare di recuperare queste somme? Sicuramente io chiederò ai parlamentari abruzzesi e alle forze politiche tutte di in fase di conversione del decreto legge di trovare un'altra forma di copertura finanziaria di questa partita di 65 milioni di euro. Così come chiederemo con altri emendamenti la possibilità di semplificare e velocizzare le procedure per la ricostruzione pubblica, chiederemo di risolvere i problemi legati ai ritardi di consegna delle pratiche nella ricostruzione privata, insomma fare tutto ciò che serve per impegnare rapidamente i fondi residui a disposizione del cratere proprio per iniziare a programmarne di nuovi e poiché dalle stime dei due uffici speciali parliamo di un'esigenza di altri 5 miliardi di euro è indifferibile la necessità della convocazione di un tavolo romano in cui si è rappresentato anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze per calendarizzare una norma, magari nella legge di bilancio dell'anno prossimo che prevede il rifinanziamento dello stanziamento per l'Aquila.